Salve, salve a lei, mi dica pure. Negli ultimi mesi continuo a fare un sogno alquanto bizzarro. La ascolto volentieri, sono qui per questo. Ha presente Giuseppe Conte, giusto? Sì. E credo lei abbia presente anche Minecraft. Certo. Beh, mi imbarazza un po' a dirlo, ma ultimamente sogno Giuseppe Conte che speedrun a Minecraft e batte addirittura il record mondiale precedente. Lei è un deficiente. Quindi lei non mi crede. Ok, guardi pure questo filmato. Sì, guardi pure questo filmato. E poi la conclude con un 360. La seduta è terminata. Ma come la seduta... La seduta è terminata. Per fortuna che non gli ho raccontato di quella volta che ho sognato Conte è nudo a cavallo. Cosa? Cosa?